Andando negli Stati Uniti aveva capito di che cosa c'era bisogno nel nostro territorio. Infatti è stato il primo a inserire i banconi con gli operatori che danno consulenza e assistenza ai compratori. Un viaggio a Boston con la Camera di Commercio di Milano apre a Francesco Canella il mondo dei supermercati moderni. Ed è proprio il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, a volerlo ricordare oggi a poche ore dalla notizia della sua scomparsa. Un uomo che è partito da una piccola bottega nella quale lavorava come dipendente e un po' alla volta ha creato un vero e proprio impero. Ma soprattutto un impero nuovo, se è stato creativo nella scelta di entrare nel mondo della grande distribuzione, è stato creativo anche nel rapporto che è riuscito a creare con i suoi dipendenti. Dipendenti nei confronti dei quali ha avuto una grandissima attenzione, il welfare del gruppo Canella è conosciuto in tutta Italia. Con Francesco Canella il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo. Perde un uomo geniale, buono, sensibile, che ha dedicato parti importanti della sua vita di uomo e di imprenditore al volontariato, alla beneficenza. Ricorda il presidente Luca Zaia quando Canella nel 2018 lanciò una raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo o quando fece importanti donazioni all'ospedale di Padova in periodo Covid. Ho avuto modo di conoscere personalmente Francesco Canella ed apprezzarne le capacità organizzative e visionarie, un esempio concreto della laboriosità del nostro territorio. Così lo ha ricordato Luigi Brugnaro, imprenditore e sindaco di Venezia. Per il sottosegretario, la giustizia, il padovano Andrea Ostellari Canella rappresenta un esempio per le giovani generazioni. Da sempre vicino a lui il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che oggi ha voluto ricordarlo così. Lui aveva una macchina vecchia, lo dico anche sorridendo, una vecchia auto, un Audi, e il dipendente gli ha regalato una macchina perché lui non l'aveva investito nell'auto, gli ha regalato una macchina nuova a Francesco. Stamattina mi ha raggiunto notizia, sono veramente dispiaciuto, è una perdita di precità importante. Un amico veramente... Grazie a tutti... Grazie a tutti